un piccolo passo per me, un grande passo per il canale voglio iniziare così oggi questo video, un video corto ragazzi ve lo dico subito un video dove non parleremo di inter ma un video dove io voglio ringraziare un po' tutti quelli che hanno permesso di arrivare a 100 iscritti sul canale si sa che i primi 100 iscritti sono come ho detto un piccolo grande passo per il canale vuol dire insomma che quello che si sta facendo a 100 persone piace, 100 persone non sono poche quindi diciamo che sono molto contento, vi ringrazio, ho deciso di dare continuità al canale per parlare appunto della nostra inter, l'avevo aperto mesi fa, poi lavoro, famiglie, tempo insomma erano sempre pochi però adesso insomma credo di aver trovato la diciamo così il modo giusto per riuscire a portare avanti il canale con una certa diciamo così continuità vi faccio un piccolo spoiler, ora vedete insomma sono a casa mia ma presto presto diciamo il mio sfondo, la mia zona dove vi parlerò dell'Inter cambierà, cambierà perché diciamo mi trasferirò e ci sarà una zona molto più diciamo nero azzurra rispetto a questa non voglio dirvi altro, vi posso dire che nella nuova casa in cui andrò ci sarà una zona appunto dedicata a questo canale, proverò quando sarò a casa nel nostro lavoro a fare delle live reaction, magari faremo delle live vere proprie dove parleremo di Inter, insomma questo è un piccolo regalo, chiamiamolo così, questo piccolo spoiler che vi faccio proprio per ringraziarvi di avermi dato la possibilità di arrivare ai 100 iscritti, io quindi ragazzi per il momento vi saluto, vi ringrazio ancora nuovamente, continuate a iscrivervi perché ovviamente se il canale cresce c'è anche la possibilità di migliorarlo in tutti i suoi aspetti e niente, vi ringrazio ancora tanto e mai, mai come in questo caso, forza, forza, forza Inter!